Sei appuntamenti per non dimenticare. Li ha organizzati la sezione dell'Associazione Nazionale Alpini Valtellinese, guidata da Gianfranco Giambelli, con il via venerdì scorso a Sant'Antonio di Teglio per la commemorazione della battaglia di Nicolaevka e sabato al tempietto votivo di Morbenio per ricordare anche Varvarovka. Noi nel mese di gennaio ricordiamo tutti gli eventi che ci sono stati in terra di Russia. Ricordiamo lo sterminio del Nappine Bianche del Morbenio il 23 gennaio del 1943 a Varvarovka dove quasi l'intero Morbenio viene sterminato dai caramati russi. Poi ricordiamo anche l'avvenimento che c'è stato il 26 gennaio del 1943 a Arnautovo dove purtroppo è toccato il battaglione Tirano avere la stessa sorte che gli era successa al Morbenio. Numerosi valtellinesi e valchiavennaschi che hanno perso la vita al fronte. In Russia abbiamo lasciato più di 80.000 militari. Valtellinesi che non sono tornati sono più di mille. Sono tantissimi perché i valtellinesi che erano nel corpo degli alpini erano tanti. Ma non ricordiamo solo quelli che sono morti. Ricordiamo anche quelli che sono venuti a casa perché quando sono venuti a casa hanno continuato a fare il loro dovere per costruire un'Italia migliore come gli alpini la vogliono. Un'Italia laboriosa, impegnata nel sociale, accogliente e sempre disponibile a essere vicino a chi ha nel bisogno. Un rientro faticosissimo, giorni di cammino in colonna con pochi indumenti addosso incapaci di riparare dal gelo pungente dell'inverno. Falcidiati dalle malattie dagli stenti e costretti a superare l'assedio russo. La Russia è stata, se non altro, non una battaglia ma è stata una battaglia per ritornare a casa. Una battaglia per ritornare a casa in quanto i russi ci hanno circondato ed hanno fatto 13 battaglie per uscire dalla sacra. Pochi reduci ancora in vita a testimoniare la fatica di quei momenti. La maggior parte di loro non ha neppure voglia di riandare con la memoria e il racconto a quei giorni terribili. Sabato a Morbegno una delle celebrazioni più sentite con l'adunata in Piazza Mattei, il corteo confiaccolata per il tempietto votivo, l'alza bandiera, l'esibizione della fanfara valtellinese nell'inno di Mamei. E la Santa Messa celebrata da Monsignor Andrea Salandi, arciprete di Morbegno, e da Fra Mario Bongio, capellano dell'Ana Valterinese. A seguire gli interventi di Guido Lucchina, capogruppo Ana Morbegno, Alberto Gavazzi, sindaco della città del Bitto, e Rosa Massa, viceprefetto di Sondrio. Presenti anche il consigliere nazionale Mario Rumo, Gianfranco Giambelli e il capitano Matteo Bizzotto. Prossime celebrazioni il 26 gennaio a Gordone e a Bormio, il 1 febbraio all'Overo e il 2 a Colda, dove si terrà la cerimonia conclusiva, sempre per non dimenticare. Grazie. Grazie. Grazie.